Ciao bambini, ciao famiglie. Oggi è domenica 3 dicembre, la prima domenica di avvento. Siamo pronti a iniziare il nostro cammino? Guardate se siete nell'angolo della vostra preghiera con tutte le cose a posto, la candela accesa, l'immagine o di Gesù o di Maria o qualche immagine sacra e insieme lì intorno ci siete voi, la mamma, il papà, i nonni magari, tutta la vostra famiglia e sono sicuro poco lontano o addirittura di vicino il vostro calendario dell'avvento. Io ce l'ho ancora da fare o meglio l'ho fatto fare alla Gabriella e voi so che l'avete già fatto e ce l'avete. Mi avete mandato delle foto bellissime, sono veramente molto belli e stasera, che è il primo giorno, aprirete la prima busta e chissà che cosa scoprirete, voi lo sapete perché l'avete fatto ma non l'avrete detto forse alla mamma e al papà, sarete voi a leggere questo messaggio e a prendere la sorpresa che ci avete messo dentro. Ogni sera ci incontreremo, quindi a quest'ora faremo il segno della croce, ascolteremo un brano del Vangelo, faremo un breve commento, faremo una nostra preghierina, ci sarà un messaggio da vivere nella giornata successiva, faremo il Padre nostro e poi concluderemo e ci saluteremo. Iniziamo allora. Vi auguro di vivere bene questo cammino che inizia. Ci raccogliamo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Vegliate, pronti ad accogliere Gesù. Sta per arrivare un messaggio importante, davvero importante. Sei pronto per riceverlo? Sembra un po' come quando hai ordinato qualcosa attraverso un corriere. Lo desideri? Chiedi ai tuoi genitori se possono acquistarlo, poi pensano a dove farlo arrivare. Verificano se è stato spedito e se c'è qualcuno che può riceverlo. Puoi fare così a preparare il cuore nel tempo dell'Avvento. Il messaggio speciale in arrivo riguarda Gesù. Inizia ad attendere la sua venuta. Prova a domandarti come e quando arriverà e preparati ad accoglierlo. Se mi state seguendo, sto usando il libretto che vi ho consegnato due sabati fa insieme al calendario. Usiamolo insieme. Ascoltiamo il Vangelo secondo Marco. Fate attenzione, vegliate, perché non sapete quando è il momento. È come un uomo che è partito dopo aver lasciato la propria casa e dato il potere ai suoi servi a ciascuno il suo compito e ha ordinato al portiere di vegliare. Vegliate dunque, voi non sapete, quando il padrone di casa ritornerà. Se alla sera o a mezzanotte o al canto del gallo o al mattino. Fate in modo che giungendo all'improvviso non vi trovi addormentati. Preghiamo insieme con la preghiera scritta a fianco. Ti prego, Signore, aiutami a sfruttare al meglio questo tempo di attesa. Aiuta il mio cuore a pulsare della fede che ho in te. Aiutami a prepararmi per il tuo arrivo. Aiutami a condividere con chi mi sta vicino la curiosità e la voglia di incontrarti. Maranatà, vieni, Signore Gesù. Ragazzi, inizia l'avvento. C'è scritto sul nostro libretto. Prepara il tuo calendario. Voi l'avete preparato e ora è il momento di aprire la prima busta. Apritela e leggete il vostro messaggio. Al termine del collegamento dell'incontro con me potrete condividere il vostro messaggio con la vostra famiglia. Oggi è stata anche la giornata del pane e il titolo era il gesto del pane. Alla messa, ieri sera, qualcuno l'ha preso. Anche lo spezzare il pane, se non l'avrete già fatto, se non avete ancora cenato, per esempio, è un gesto per condividere, che ci ricorda quanto è importante la condivisione. Prima però di aprire la vostra busta, leggiamo anche la pagina successiva. Guardate l'immagine di questo portalettere che mette nella busta della vostra casa un messaggio importante, apposta per te. È proprio il titolo del nostro libro. Leggiamo. Il modo migliore per farsi trovare pronti ad un evento grande come la nascita di Gesù è la veglia. Vegliare significa restare svegli, non addormentarsi, per essere sempre pronti. Non preoccuparti, la notte puoi dormire, non devi sempre stare sveglio. Si tratta di una metafora. Dobbiamo tenere sveglio il cuore e la nostra mente, non farli addormentare. Come puoi fare? La preghiera è un ottimo metodo per mantenerti in allenamento. Iniziamo insieme l'attesa del Salvatore. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Siamo nella novena dell'Immacolata. Affidiamoci anche alla Madonna. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Adesso è il momento di salutarci. Chi è venuto a messa ieri sera è stato bravissimo. Vi ho consegnato questo primo pezzo del puzzle. Questo è un altro impegno molto importante. Vi aspetto tutti sempre alla messa del sabato. Ieri sera è il primo pezzo di puzzle, poi ogni sabato sera fino a Natale gli altri pezzi e anche alla vigilia dell'Immacolata ci sarà questo pezzo da ritirare. A Natale questo puzzle sarà composto, sarà meraviglioso. Lo potrete appendere al vostro calendario dell'Avvento come ultimo pezzo da appendere conclusivo di questo cammino. Bene, e ora aprite la vostra prima busta col papà e la mamma e buona lettura del vostro messaggio. A domani sera. Ciao. Ciao.